Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono il nostro Mario e oggi siamo qui con Pumpkin Buongiorno Oggi andremo a iniziare un walkthrough insieme a Pumpkin su questo gioco che non ho mai toccato Io più o meno Ok, questo è il nostro avatar predefinito, lo chiameremo Perry Master Perry Master 0-9 Perry Master 2013 Non scrive più No, aspetta, Perry Master 0-3, no, 13 No, non si capisce, Perry Master 0-9, va Il nostro sesso, ovviamente, non specificato Do, classe Chierico perché siamo nabbi Perché siamo cancel Dono, chiave universale Perché siamo nabbi, sì Fisico, testa grossa perché siamo nabbi Sì Volto, testa grossa Fistoso di Catarina Cosa? Perché la gente di Catarina è così? Tutti uguali No, io direi questo bambino Un neonato Appunto Inquiettano Vabbè No, quello meno brutto sembra viadante A me sembra Ryan Reynolds Oh, da lontano non sembra tipo brutto Da lontano Da lontano? Il problema è che più se lo vedi da vicino In the age of anciens The world was unformed Shrouded by fog A land of grey crags Arch trees And everlasting dragons But then there was fire And with fire Came disparity Heat And cold Life And death And of course Light And dark Then from the dark They came And found the souls of lords Within the flame Nito The first of the day The witch of Izalith And her daughters of chaos Gwyn The lord of sunlight And his faithful nights And the furtive pygmy So easily forgotten With the strength of lords They challenged the dragons Gwyn's Gwyn's mighty birds Peeled apart Their stone skins The witches The witches Weed great firestorms The witches Weed great firestorms Nito Unleashed a miasma Of death And disease And Seath The scales Betrayed his own And the dragons And the dragons Were no more And the dragons Thus began The age of fire Ma presto le flamme saranno, e solo il darko resterà. Anche ora ci sono solo i embers, e l'unico non la luce, ma solo le luce finissime. Luce finissime. E tra i vivi ci sono i carri di scendere. E non ci sono i carri di scendere. Inoltre, il signo scendere i morti. E in questa terra, i morti sono corralati e ledati al nord. Inoltre, 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 inoltre. Inoltre, 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 inoltre. Inoltre, inoltre. Inoltre. L方are. Grazie a tutti Dai, il rifugio dei non morti Ci siamo? Nostra prima camminata lagosissima E mi piace già Dai, deprediamo il cadavere Abbiamo trovato la chiave della cella dei sotterranei Apre la porta con due frame Sì Ci sono due gradini e mezzo E lui mette il piede in due gradini Cosa fa? Oddio Ok Una facciata con traforte Riposa al falo recupero Ok Scusate se lagga ma Cioè Normale amministrazione insomma Ok, si sentono delle cose Ma abbiamo l'audio a zero e si sente la porta che si apre? Io me ne andrei ciò Ok Prendi lo scudo Ok Dove sta andando? L'arma Boh, lui se ne va Cambiamo l'equipaggiamento E mettiamo La mazza Cos'era? Vai, backstab Yeah Grandi backstab Ok Allora sali le scale Però tipo C'è quel barile No Quella biglia No scendi 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 BOOM Beh, non è che Oddio Oddio Si, ma i blocchi di cosa sono infatti Di polistirolo Che c***o sta facendo No You're not hollow Hmm? Thank goodness I'm done for I'm afraid I'll die soon Then lose my sanity I wish to ask something of you Even I were both undead Hear me out will you Regrettably I have failed in my mission But perhaps you can keep the torch lit There is an old saying in my family Thou who art undead are chosen in tine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords when thou ringeth the bell of awakening the fate of the undead thou shalt know well now you know and I can die with hope in my heart oh one more thing here take this an esters flask an undead favorite una 5 va bene ok oh salve wow perry master giorno mi serve aspetta aggancia il nemico ok vai proviamo dai dai vici ma no ma eh vabbè ok calmati secondo tentativo proviamo a non morire no perry master 09 deluso no 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 dai sono in due adesso dove sta hitando perchè poi fai l'attacco in salto poi cosa sta succedendo ma cosa fa perry master è stra deluso ed ecco a voi la maestria di perry master 09 di condizioni spero di chiudere il menù oddio è vero aiuto vai il backstab no 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 Hai sprecato tutte le fiaschette per ritornare indietro E in questo momento quel fallito di Perry Master 09 riesce finalmente a fare un Perry Voglio proprio vedere come ti difendi Ah, fa schifo Non puoi prendere il rischio Wow, attenzione BAM Mazzalo E vabbè Oddio, bellissimo Perché? Devi premere RB Ah, vabbè, non lo sapevo Ma te lo puoi prendere Eh, vabbè, non lo sapevo lo stesso Oh, ma non si rialza Eh, ok Io mi curerei Eh, ma prima è meglio scappare Da quello era il peso Eh, va bene Oh, ma scherzo Ok, mi sa che sono C'è ancora un S E due No, ho uno di vita In pratica Perché? Sì La prima hit Sì Oh, dub Tanto siamo morti Ok, con quella vita dobbiamo ammazzarlo No, c'è anche due miracoli Volevi fare il pari al boss Volevi fare il pari al boss Oh, lo capì Sì, siamo morti Sì, siamo morti Bello il tutorial Sì, sono anche morto Tre ore dopo Salve Allora RB Noi abbiamo un contratto Io ti hitto e tu muori 20 volte Sì Abbiamo tolto un terzo di vita Cosa stai facendo? Non lo so Io sto andando a caso No, schiva Eh, schiva Quattro ore Per un movimento Con 6 fps Al mondo Aspetta Io ti consiglio Di mettere l'arma a due mani Che tanto Parare con lo scudo Credo sei Perché? Schiva Ha capito La dipp Se lo sapessi Come si fa Ok, prendi le anime Attento Oddio, vai Ok Il hit Al suono No, ancora Io mi curerei però E anch'io solo E mi metterei anche l'arma a una mano Cioè, ha due mani Oh, mettila però Ok, bravo Guarda che mi sa che ti shotta Se tipo Ok, vai No, perché Ha fatto uno in più Oddio No, senza timbolo adesso Vai, vai, vai Sì, sì Giusto, giusto Non è una brutta data Si sa mai prima che Eh no Qua mi ha fatto male Un pochino Si tratta il cuore Sì, ma rialzati Oh Vai Amori Yes Sì Sì Ok Ho hitato prima di lui Aia Chiavo che Il bersus fa male Ok ragazzi Questo era il primo episodio di Dark Souls 40 minuti di registrazione Per il tutorial Sono fortissimi Quindi Se il video è piaciuto Lasciate un like qua sotto Commentate Iscrivetevi Noi ci vediamo alla prossima Ciao Iscrivetevi Il Grazie.